Lombardi. Io lascio agli onori della cronaca giornalistica lo straordinario risultato 5 a 2, quasi un risultato calcistico di 5 arrestati PD contro i due arrestati Forza Italia, 5 arrestati PD di questa consigliatura e di questa giunta. Poi per il resto, la bonifica del partito, voglio ricordare sempre perché mi piace citare i fatti e non le opinioni, che il 18 marzo 2015, quindi due mesi e mezzo fa più o meno, il presidente del Partito Democratico Matteo Orfini, commissario del PD romano, e il senatore Stefano Esposito, commissario del PD di Ostia, sedevano con in mezzo Andrea Tassone, presidente in quota PD del municipio Ostia e chiedevano un'altra chance di governo per Tassone, dicendo a Marino, manda via i dirigenti, dai altre deleghe a Tassone e noi faremo il rimpasto. Anche qui ci sono, io ieri in conferenza stampa l'ho citata, comunque ci sono delle parole molto precise in cui Orfini si fa interprete di questa richiesta a Marino.